Ci siamo? Partiamo ufficialmente, signori! Lo Schiuma Party, 15 agosto 2019, Roseto Capo Spulico, DJ Live, in console! Un applauso spontaneo! Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti! Sentire un applauso, via a contina! La voce di Dr. B Music Box! Thank you, thank you so much! Voglio ringraziare prima di tutto per quest'evento, l'amministrazione comunale di Roseto Capo Spulico! Voglio ringraziare la virtual community, dove dovete trovare i video e le foto di questa notte, di questo Schiuma Party! Io vi presento, sono Dr. B! Arriva, 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 arriva! Siamo partiti ufficialmente, con la canzone di DJ Live, Roseto Capo Spulico, virtual community! Ringraziamo anche l'Associazione Nazionale Carabinieri di Roseto Capo Spulico! E' un po' diverso! Buonasera a tutti, buonasera a tutti! Siete pronti, con le mani al cielo! A Dr. B Music Box, Vincenzo De Palo, sempre nei nostri cuori! Ogni per agosto! Vogliamo ricordarlo così!